Il centro di formazione propone un bene per la nostra gioventù e per tutte le imprese che costituiscono veramente il suo messo economico. Altrettanto questo sviluppo verso una bene un po' mica avanti senza che noi maestrissimo la lingua grossa. E la ragione che facciamo è che voleremo, voleremo, che l'istituzione ci sostenisse nel sviluppo di questa lingua, dandoci i mezzi di vedere fino a che punto possiamo fare in maniera di s'affianca a tutti i nostri giovani, a tutte le nostre imprese e fare l'Igabì che senza la nostra lingua moderna si può fare non un corso. Le CFA de Haute-Corse, l'Ecole des Métiers, l'Expression des Talents.